Allora, buonasera, siamo con Guida Sterini, allenatore del villaggio. Fa un commento sulla partita di oggi contro il piede? Sì, ciao a tutti, buonasera. La partita è una partita molto molto strana, giocata secondo me da noi molto bene, la miglior partita forse che abbiamo fatto e il risultato da come hai visto da me ci penalizza parecchio perché abbiamo abbiamo creato veramente tanto e abbiamo portato a casa un punto che sì per come si era messa la partita forse buono però meritavamo molto di più secondo me. Cosa salva di oggi? Prestazione? Prestazione sicuramente, assolutamente sì. Nel primo tempo siamo stati un po' titubanti da andare a tirare, abbiamo partito un pochino lì però poi secondo tempo molto 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 bene. Però la reazione c'è stata? Assolutamente sì.